For the best artist goes to Christian Markley Christian Markley, vincitore del Leone d'Oro alla Piennale di Venezia del 2011 con il suo capolavoro The Clock compie un'ulteriore evoluzione del suo lavoro di riorganizzazione del linguaggio audiovisivo attraverso l'uso del montaggio Un'opera monumentale e complessa, il cui cardine concettuale è il tempo L'autore ha costituito una griglia narrativa della durata di 24 ore attraverso l'identificazione di centinaia di inquadrature e sequenze di innumerevoli lungometraggi internazionali nelle quali sono visibili orologi che indicano un'ora precisa o nelle quali si parla di quest'ora precisa Portato a termine questo processo di individuazione e selezione ha collocato in maniera conseguenziale questi brani filmici ricostruendo una vicenda basata sul racconto che dura un'intera giornata Il risultato di questa operazione è veramente sorprendente poiché nonostante le ispezioni derivino da prodotti audiovisivi totalmente differenti per genere, epoca, stile, regia, recitazione, ambientazione, luce e aspetti cromatici la sensazione che prova il fruitore è di una perfetta fluidità non solo a livello narrativo ma anche a livello visivo Artista visivo e musicista tunitense, Christian Markley, nato in California e formato su Svizzera già dagli anni 70, ben prima dell'era delle hip hop o del DJ nelle sue performance utilizza vinili e supporti musicali manipolati e deformati in modo da produrre effetti speciali ottenendo suoni e basi ritmiche dalla manipolazione del vinile sotto la puntina I suoi collage possono essere contemporaneamente brillanti, tecnologici e realistici Markley emerge nella scena artistica di New York dei primi anni 80 usando la musica come collante di una complessa ricerca multimodiale E' proprio la transdisciplinarietà della sua produzione gli vale il successo sia nel mondo dell'arte contemporanea sia in quello della musica vanguardia e della cultura pop La tecnica su cui si basa l'arte del DJ è il collage che qui diventa uno strumento per sperimentare tanto con il sonoro quanto con il bidimensionale e l'audiovisivo Il principio che regola il collage su carta, con i suoni o sullo schermo è l'effetto porisincro generato dalla combinazione di frammenti di origine diversa Di fronte a una discrepanza tra suoni, tra immagini, tra suoni e immagini lo spettatore è chiamato ad assumere una posizione attiva avvertendo la responsabilità di sincronizzare l'oggetto, il ideale e trovare un proprio percorso di soluzione L'americano Christian Markley lavora e continua a lavorare sullo stesso concetto di decostruzione e ricostruzione della logica del racconto filmico Esempio concreto di questa sua pratica creativa è Telephones un'opera edificata su sequenze basate su conversazioni telefoniche di attori che rispondono al telefono in film hollywoodiani rimontati in modo assolutamente arbitrario Una colonna sonora di suoni accuratamente dosata si snoda lungo i frequenti stacchi dei film conferendole una coerenza ritmica da cui solo le instabili immagini sullo schermo non paiono sottrarsi In video quartet Markley combina frammenti da noti film hollywoodiani di cui è protagonista il suono, musica, canto e rumore e li proietta differenziati sui quattro grandi schermi I frammenti autovisivi sembrano essere stati archiviati dall'artista secondo canoni oggettivi per l'appartenenza del suono ad una data famiglia o catalogati come libri sulle scaffali di una biblioteca L'artista si limita a innescare qui un procedimento che investe direttamente il mondo esterno e lo spettatore il quale utilizza l'opera come filtro per ritrovarsi da solo con se stesso Come video quartet, anche in screenplay, il simbolo funge da supporto tecnico dell'opera L'artista mette lo spettatore in una posizione psicoattiva di fronte a elementi autovisivi variabili Ogni singolo frammento assume una gamma di significati, tanti quanti sono i presenti tra il pubblico Dispersi nel buio della sala di proiezione, gli spettatori prendono le distanze l'uno dall'altro Barcano ponti diretti verso il loro passato e si arrampicano su pareti di specchi in cui la loro immagine è ripetuta all'infinito Screenplay consiste nella formulazione di un'esperienza e ogni attimo durante l'audiovisione assume un volume variabile a seconda di chi lo occupa Guardare indietro per andare avanti potrebbe essere il tie-off che riassume in poche parole una serie di trend culturali relativamente recenti Allo stesso modo, Christian Markle, artista che mescola viste ed udito si affida ad uno strumento quasi dimenticato, la Cianotipia Per una serie di opere inquinastri delle vecchie musicassette altro strumento quasi dimenticato vengono utilizzati per creare composizioni randomiche attraverso un processo che scomoda paragoni con Pollock Confezionato dagli svizzeri di Norm in collaborazione con l'artista Cianotipes include un approfondimento sul processo utilizzato da Markle ad una breve essay in cui l'artista reclama la musicassetta come uno strumento di astrazione visiva Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!